Che cosa le è accaduto? Niente, questa mattina sono venuta a votare la carta nei contenitori che ci sono qua e sapendo che comunque questo canale è dal 17 di dicembre che c'è fango, non si riesce a passare considerando anche che ci sono degli appartamenti, gente che sotto le feste di Natale sono venuti non potevano neanche accedere a fare una passeggiata e praticamente mi sono permessa di dire a quattro operai seduti sul muretto con due pale non capisco in quattro con due pale come potevano operare tutti quanti perché non stavano togliendo il fango e lì per lì mi hanno detto che era dura, che ci voleva tempo io sapendo che è da una settimana che vengono tutti i giorni ho detto come mai che ancora non erano riusciti a fare niente, che non era possibile mi sono permessa di avvertire l'assessore ai lavori pubblici che poveretto, non so come fa a sopportare l'assessore Paolini tutte queste persone che lo circondano lui cerca di fare il suo lavoro ma purtroppo chi sta attorno a lui non lo esegue che praticamente mi sono permessi di venirmi a bussare al vetro della macchina dicendomi chi cavolo ero, che cosa volevo io ho risposto che era un semplice cittadino e da lì mi hanno mandato a farlo e se permettete io non l'accetto poi voglio precisare che di queste quattro persone c'era una persona di colore qualcuno non mi venga a dire che sono razzista, non si permetta ma mi hanno dato a farlo quindi io questo lascio le conclusioni agli spettatori cioè alle persone di valutare in che mondo viviamo cioè abbiamo pagato per una settimana quattro persone non so quanto prendono allora fate il conto voi per poi oggi un'ora fa è venuta la botte a lavare il tutto tanto valeva far venire la botte e non pagare quattro persone per una settimana che gravano sul bilancio comunale hanno rattoppato anche qualche buca giusto? certo, hanno rattoppato qualche buca mettendo catrame sul fango che infatti se lei ci va a pistare sopra le viene via il catrame sotto le scarpe una sì, una no, una sì, una no quindi con quale criterio? io non sono né un geometra né un ingegnere ma penso che la logica parli da sé lei è un'alluvionata? io sono un'alluvionata e stamattina poi sono venuti dei signori del comune a fare un sopralluogo per poter risolvere il problema di questo classico canale che non riceve più acqua che arriva da tutte le parti mi sono sostenuta un'alluvionata mi si è riso in faccia e ho precisato che io sono un'alluvionata ho piaciuto acqua e fango in casa e lo rischio tutte le volte che piove anche solo con due gocce d'acqua quindi per questo sono arrabbiata a vedere che vengono pagate delle persone che gravano sul costo il bilancio comunale e essere ignorata